Benagli amici della banda di Jackpot, siamo sempre in compagnia di Mark e quindi like assicurato, doppio like, dobbiamo disintegrare il tasto dei like Iscrivetevi al canale, andate in descrizione per cliccare tutti i link e scrivete nei commenti cosa ne pensate dello sbustamento di Mark di prima Mano esperta Mano esperta Oggi ci andremo a sbustare una tin di Mew, non ho idea di che cosa ci sia dentro Non è Jedis, poi vi spiegherò cos'è Jedis Perché stavo guardando lì, quando dovrei guardare lì, perché sono ritardato Stavo dicendo, sono ritardato io che guardo qui Sono ritardato io che guardavo lì Perfetto Vabbè vaga, sono storpio Hai l'età 72 anni Diamo tutti in mano al dottore Andami Eccoci qua, con la nostra tin, che in realtà è la tin di Mark perché ci metterà dentro le carte che si porterà via Guardate che bello E Mew Spacca Finalmente in italiano, così riesco anche a leggere Adesso inventeremo i nomi, cazzo Esatto Questo è Sandro Questo è Sandro Allora in questa tin, raga, abbiamo, oltre alla promozione di Pikachu, abbiamo quattro bustine Due Di voltaggio sfolgorante dove c'è un Pikachu C'è un Pikachu, giusto? Ok È grossissimo Fragole Ribelli Dove non c'è niente Potremmo anche bruciarla E Sintonia Mentale Sole Luna Che è tanta roba Perché si trovano delle robe fighe qua dentro Veramente? Esattamente Ah, faccelo, cazzo Eh, faccelo, cazzo Allora Cos'è questo? Sintonia Mentale 22 Fragole Lamponi E 38 Poi Fragole Ribelli 22 41 Oltre alla 38 48 Era quello C'è la memoria a breve termine Esatto Voltaggio sfolgorante 22 Sta scendendo sempre di più Queste si stanno degradando Era 38 48 Le hai messe sbagliatissime No, è giusto così E quella con Pikachu Che è 22 26 Attenzione Che è comunque la seconda Dottore Ad asustare Due Pikachu Due Volcanti Vontani Story Cazzi pozzi E poi Antani Come se fosse Antani Giusto? Mamma mia Sono belle tozze queste Vai fai uno Due Tre Quattro Tricchettino Raga E Roba Grossa Oh Guarda Se ho sbagliato Mi scelavi subito Adesso No Finché c'hai Il giovane fuoriclasse qua Vai Energia Bitorzo Sembrava italiano Invece non è italiano Bitorzo Lelmo Spagnolo Dusclops Yes Non c'è veramente niente Ferrotorn Bella Questa è veramente bella Ferrosi Guarda la qualità Justamente Schiddo Skiddo Daie Ohcraft Yes Pucciena Oh Oh Allureverso Zygard Figo Bello Figo Zygard Bello Questa è la versione Che mancava Mi sa Finale Superpower E QuagSaya 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 è del Team Rocket Sì ce l'avevo O Wabafett No Wabafett Questa Questa è la tenere Pikachu Vimax 200 euro Raga 200 euro Pikachu Vimax Mark 200 euro 200 euro Che non troveremo mai Tu devi avere Fiduce Sai che Non c'è veramente niente Secondo me Ma perché Non c'è niente Galvantula Bello questo Galvantula Spiego se Un altro Bitorzo Lelmo Un altro Un altro Rockra Un altro Bello Bello Un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Bello Bello Bellissimo E E Attenzione Ora della verità Olo Reverse Lollo Reverse Crocorac Bello Carino Ci sta E Fuffazza Una Ma Doppiaolo Incredibile Doppiaolo Che deve esserci qualcosa di più fico Che tra l'altro abbiamo già Esatto No perché L'anno Reverse Questa C'è lì diverse Hai visto Vuoi da Olo diverse E come le Le classifiche Queste nell'album E io le metto Una vicino all'altra Solitamente E Sai quello che noto dagli altri Che sbustano E che non fanno mai vedere Quando aprono Ma stai invece Ho trovato Charizard 10.000 euro Non è che magari Ce l'avevi già Le hai messo lì Per fare content E Furbetti Noi non troviamo niente Furbetti E noi non abbiamo Nessun content Esatto Charjabug Già Ganjabug Bello questo Bello Drippy O Dripai Snowbear Bynacol Oh bello Barbarella Oh Oh La rumacca di Galar Molto carino Shiny verdino Bello sto vulpe Cazzaramente bello Sparicato Olo reverse Di Darmanitan Che ci sta E Fuffazza Cramorant Cramorant Molto importante Cramorant Eh L'importante è arrivo Proprio Mi raccomando A parte che la bustina È fighissima Secondo me Infatti questa Cercherò di aprirla Nel modo migliore possibile Veramente Veramente figa Aperta perfettamente Dottore Cioè è vuoto adesso Questo Sono Un chirurgo Sei russano Trick Io Io mi Giuro Che mi sento Che c'è roba grossa Cioè Almeno Gelatina Un gelatino Un gelatino Un gelatino Qua c'è Importante Un gelatino Attenzione Carta energia Questa è già importante Ve lo dico Mai trovata Energia acqua Non si era mai trovata Giam mega Mega Campana assordante Volevi due strumenti Quiz di Blaine Volevo due strumenti Volevo due strumenti Beh ma se sono due strumenti Voglio dire che sono Almeno Una Vimax La God La God Una God Una God Ma Slakot Ce l'avevi già Sto Slakot No Dryflun Quella Che cos'è Dupider Dupider Quindi merda Si può dire Che non avevo Lucario Però Io ti avevo detto Sicuramente Mi sento che c'è un Lucario No Un gelatina Guarda che c'è dietro Lucario C'è un gelatina Potevo sentirebbero Un velo meglio Con l'altro Darkrai Che cos'è No Un altro Dei miei preferiti Garci Niente Bella sta bustina Sta Statin Dottori Direi che Possiamo Salutarci qua Lasciate sempre like Mi raccomando Non fatelo per me Fatelo per Mark Perché ha bisogno di supporto Per il suo canale Che non ho Che non ha Però sopportatevi Nel dubbio sopportatevi Vi lascio il suo Instagram Qua da qualche parte No perché poi Divento famoso Io sapete che ho bisogno Dell'anno animato Dell'anno animato Ano animato Esatto Bella a tutti Ciao ciao